Chiamo Filippo e sono dell'hotel Monica di Pinarale di Cervia. Il motivo per cui sono venuto qua è tenermi costantemente in aggiornamento grazie alle nozioni che mette a disposizione Gianmarco e il suo team crescere continuamente come persona, come albergatore e come imprenditore. Le cose che mi sono piaciute di più di questo evento sono sicuramente gli interventi di Gianmarco che sono sempre lungimiranti. La prima cosa che quest'anno mi ha colpito in particolar modo è l'intervento che ha fatto un maestro di vita come Arrigo Sacchi che tramite la sua esperienza è riuscito a trasmetterci dei valori importanti. Mi sento di consigliare questo evento fortemente a tutti i miei colleghi albergatori e imprenditori perché comunque si allarga le vedute, allarga gli orizzonti e permette di imparare sempre cose nuove in un mondo in continuo cambiamento.